Ancora ben trovati dalla redazione di Chiaranze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Bivio 1 Variante. In A11 code a tratti tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola, il tutto verso Firenze. Ci spostiamo in Fipili dove troviamo code a tratti per traffico verso il capoluogo tra La Strassigna e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta a coda in uscita a Scandicci e code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est. Per il traffico ferroviario segnaliamo che a seguito della segnalazione di alerta del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi, la circolazione dei treni quest'oggi è sospesa tra Marradi e Faenza sulla Faentina. Sono previste corse sostitutive con bus. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.